Campagna pubblicitaria di Barilla nel 2018. Perché la pasta è una questione di famiglia. Campagna pubblicitaria di Ferrero nel 2017. Ferrero Rocher, una sorpresa per tu. Campagna pubblicitaria del caffè Lavazza nel 2016. Caffè, una passione italiana. Campagna pubblicitaria di Vodafone nel 2015. Vodafone, la rete che ci unisce. Campagna pubblicitaria di Fiat nel 2014. Fiat, l'auto che cambia la vita. Ecco, queste sono 5 delle campagne pubblicitarie italiane che negli ultimi anni si sono distinte per la creazione di quello che è lo slogan. Ma cos'è lo slogan? È una frase d'effetto. Sicuramente, ma che deve racchiudere qualcosa che la renda memorabile, ma nello stesso modo in cui ci si possa soprattutto riconoscere. Parla in maniera obiettiva a maggior numero di persone. Parole che possono essere percepite dal maggior numero di persone. Questo dà la possibilità di ricordare lo slogan nel tempo ed essere maggiormente accettato anche da chi non si riconosce nel prodotto, ma si riconosce nella frase. Questo è marketing.